amici detectoristi buongiorno sono leonardo sciocca di detector shop italia avete mai sentito parlare di podcast i podcast sono delle registrazioni audio ascoltabili da internet che nel corso di questi ultimi anni sono diventate sempre più popolari e diffuse sono podcast musicali comici podcast sulla tecnologia sulla politica e su tanti altri argomenti compresi quelli dedicati al metal detecting ma fino ad oggi quelli che riguardavano il nostro amato hobby erano soltanto in lingua inglese noi di detector shop abbiamo quindi deciso di lanciare questo nuovo servizio con un nostro podcast in lingua italiana diamo quindi il benvenuto a detector shop factory il podcast in lingua italiana completamente dedicato al mondo del metal detecting potrete ascoltare audio riguardanti spiegazioni tecniche interviste anticipazioni e novità del mercato approfondimenti le ultime offerte detector shop e tanto altro e li potrete ascoltare quando volete e come volete con il nostro pc con lo smartphone o con il tablet trovate il link per ascoltare i primi episodi qui sotto nella descrizione ma ne seguiranno tanti altri e molto presto i podcast detector shop factory saranno disponibili anche su spotify google podcast apple podcast e tanti altri famosi provider e allora da leonardo ciocca di detector shop italia buon ascolto ciao 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 ciao